Ampliamento di tutte le aree cimiteriali di Napoli, individuazione previo certificato antimafia di un gruppo di ditte funebri che opererà sotto l'alveo dell'amministrazione comunale, impianti di cremazione e calmiramento dei costi. Sono solo alcuni dei punti della riforma del sistema cimiteriale deliberata da Palazzo San Giacomo e i cui dettagli sono stati forniti questa mattina dall'assessore al patrimonio del Comune di Napoli Alessandro Fucito e dal dirigente del settore cimiteri cittadini. Oltre al miglioramento e all'aumento delle aree adibite alla sepoltura, la riforma prevede che non avvenga più passaggio di denaro tra i parenti dei defunti e le ditte private. La vita cimiteriale è fatta di decine di momenti. Quando si finisce si può scegliere tra pubblico e privato. Oggi non si può scegliere. Il privato deve essere accreditato e con requisiti. Si può scegliere tra la seppellitura e il crematorio. Oggi non è possibile. Entrati nel cimitero si resta cinque anni perché questo prevede la legge. Si compra un manufatto, lo si compra al giusto prezzo del Comune di Napoli. Questo avviene perché i manufatti sono disponibili. Si sequestrano i manufatti illegalmente compravenduti. Si pagano di meno le tariffe e il Comune riscuote. Se non si ha credo religioso si ha disponibilità ad una sala di commiato laica. Se in passato si sono commessi degli abusi edilizi non si pagano 100.000 euro per poterli condonare, cifra che nessuno ha mai pagato nella nostra città. Si pagano cifre umane tali da mettere il Comune in condizione di poter praticamente riscuotere. Presente anche il sindaco Luigi De Magistris che ha sottolineato altri aspetti della delibera. Legalità, trasparenza, evidenza pubblica, incasso di somme che prima non venivano introitate, risparmio per i cittadini, civiltà come il trasporto pubblico in occasione dei funerali, le sale di commiato, la riqualificazione di pezzi importanti di aree cimiteriali, nuove fosse. Insomma una vera e propria rivoluzione fatta dai vivi pensando ai morti. Spesso quello è un luogo in cui la politica si girava dall'altra parte o conniveva e non aveva il coraggio, la voglia, la volontà di intaccare un sistema anche criminale, oltre che profondamente immorale perché aveva a che fare con il momento di maggiore debolezza delle persone quando finisce una persona cara. Bene, noi l'abbiamo fatto e soprattutto questo porterà soldi nelle casse del Comune e ridurrà le spese e le somme che i cittadini pagano e soprattutto si evita che si debbano rivolgere a qualcuno come piacere per ottenere quello che è un diritto. Quindi credo che sia effettivamente una vera e propria rivoluzione che la politica a Napoli nei cimiteri non aveva mai avuto.